Ok, ah ok, non si affumuli, sai cosa si vede? Leggermente sopra, sembra un riflesso, però si vede male, si vede leggermente un monitor sopra, come facciamo a fare ancora con la mano? Vai parti che sono già 30 secondi, Marco, ne faccio un altro perché posso anche pausare e poi riprenderlo dopo. Fai pausa e poi riprendi.